Bella ragazzi, qui per voi il vostro Fosperlover Io oggi chiedo aiuto a voi per un nuovo BG, un nuovo avatar e un nuovo intro che mi servirebbe e spero che ricevo qualche aiuto da parte vostra per quelli che non sanno come fare i BG o avatar o intro spero che mandate questo video ai vostri designer o a quelli che conoscete e sì a tutti perché mi servirebbe l'aiuto perché ho già contattato uno o due designer ma non ho ricevuto risposta, non so perché ma sì spero che ricevo aiuto da parte vostra quindi a voi iscritti che guardano i miei video spero di ricevere qualcosa da parte vostra nel fatto che mandate questo video a tutti che non conoscete e sono capace da fare quelle robe lì quindi a me servirebbe un avatar o un BG che è simile come la mia immagine che ho nella descrizione spero che ricevo un aiuto da parte vostra per l'intro è lo stesso quello che riuscite a fare se avete già qualche idea mi fa piacere quindi io non ho idee che intro o come fare una intro quindi per tutti quelli che poi fanno il lavoro per me o fanno anche solo il lavoro per trovarmi un designer o un BG un designer o uno che fa l'intro quindi faccio la pubblicazione o faccio la pubblicità per il proprio canale che quelli che aiutano a trovarmi un designer anche per quelli che vedono o che mi fanno poi gli avatar o l'immagine o l'intro quindi spero che voi mandate questo video a tutti quelli che conoscete e che sono capaci a fare queste cose qui e sì, io poi faccio come già detto pubblicità per il vostro canale per tutti quelli che mi aiutano ma non prendo quei avatar, BG o intro farò un video dove faccio la pubblicità per voi per quel background, per quel avatar e per quella intro che prendo farò un altro video e poi se volete e prendo poi il vostro video mi potete anche mandare poi il video come fate poi, non so come si chiama, speedart o roba del genere e poi lo metto sul mio canale così è ancora più pubblicità per voi quindi voglio veramente un aiuto da parte vostra io cerco anche sempre di aiutarvi e spero di ritrovare un aiuto da parte vostra e sì, con questo credo ho detto tutto quindi se ci sono domande o robe del genere postatele come commento sotto questo video sì, conto su di voi va la raga, ciao